Allora grazie Sebastiano e niente questo è un talk semiserio come abbiamo detto intanto inizio presentandomi io sono Daniel Ponticello sono un imprenditore nel settore della tecnologia nel senso che sono il CEO di Redder che è un'azienda che si occupa di telecomunicazioni faccio cose come vedete nella slide c'era scritto faccio poi è barrato con facevo perché è un refuso dal covid nel senso che poi nel 2021 tornato dal covid dicevo facevo perché non facevo più niente ora che il covid è stato abolito per decreto sono tornato a fare cose e ovviamente vedo gente in giro passo almeno una settimana al mese negli Stati Uniti e vado a varie conferenze in giro così non ci dovete andare voi programmo in python, node, golang, un po' di roba in generale sono un network engineer by trade su linux, sisco, router os io sono sysadmin principalmente FreeBSD non so perché ho messo linux prima FreeBSD è prima nel cuore poi linux nell'agosto scorso ho partecipato al B-Sides che è una conferenza di cyber security a Las Vegas e sono incappato in una presentazione di un tale Josh Bresser che ha fatto una presentazione che dal titolo era Next Generation Enterprise Security quando ho visto la slide di partenza ho capito che non era esattamente quello che pensavo di andare a vedere quindi diciamo che ho preso ovviamente ispirazione per cercare di creare anch'io un talk diciamo simile Josh Bresser aveva analizzato 179 episodi di Star Trek The Next Generation alziamo la mano giusto per capire quanti sono fan di Star Trek oh quasi tutti benissimo avevo paura di dover dire fuori a quelli che non erano però in realtà possiamo tenerci e c'erano diciamo sono circa 120 ore di lavoro perché ogni episodio non richiede solo di essere guardato ma bisogna anche tornare indietro riguardarselo prendere gli appunti anche perché lui ha classificato minacce mitigazioni e contromisure secondo il framework mitre attacca e quindi questo fa punti rispetto al talk di cui parlavamo prima perché ho detto framework nella parte invece di quello che ho fatto io chiaramente non ho preso il suo e l'ho rifatto anche se lui invita tutti quanti a prendere le sue slide e rifare il talk io l'ho preso e ho utilizzato diciamo parte della sua griglia di riclassificazione e parte della mia conoscenza di aver passato praticamente dai dieci anni in su a guardare solo Star Trek nei vari diciamo flavors e ho fatto una diciamo una presentazione con un audit in cui faccio finta di essere un auditor normale un audit della sicurezza delle informazioni secondo la norma ISO 27001 edizione 2022 e facciamo un audit di sistemi di sicurezza dell'enterprise ora siccome lo facciamo in maniera semiseria ma comunque seria andiamo a determinare in maniera ufficiale come se fosse un auditor ISO 27001 l'ambito del sistema di gestione di sicurezza quindi a livello di audit io sono obbligato a leggere questa parte qui questo punto norma quindi lo devo leggere così l'ambito di questo audit coprirà tutti i sistemi informativi a bordo dell'enterprise dalle banche dati principali della nave i sistemi di comunicazione personale come i comunicatori i terminali di accesso personale verranno inclusi anche sistemi specializzati come il teletrasporto l'holodec e laboratori scientifici avanzati altre due istruzioni su questo talk siccome mi ha messo circa un'ora il buon Sebastiano non so se riusciremo a riempirlo tutto o magari se sarà troppo poco invito a tutti di interrompere in qualsiasi momento per fare le domande perché chiaramente magari viene meglio viene meglio abbraccio parte prima nella prima parte di ogni audit di sicurezza ISO 27001 dobbiamo capire l'ambito, il contesto dell'organizzazione che andiamo a prendere in considerazione ovviamente stiamo parlando di una nave di classe Galaxy variata nel 2363 è stata costruita sulla parte di dry dock in orbita intorno a Marte poi a seconda di chi ha fatto il doppiaggio dell'episodio potete sentire dire utopia per la Nizia utopia per la Nittia insomma intorno a Marte in orbita intorno a Marte e la prima missione è stata nella data stellare 4.1.153.7 incontro a Farpoint non sono riuscito a contestualizzare nel 2363 la data stellare perché pare che non ci sia uno standard per poter determinare la data stellare a ritroso ho anche chiesto a vari modelli di intelligenza artificiale ma non sono riuscito ad avere una risposta guarda caso l'Enterprise D è una nave di classe Galaxy è la nave di punta della flotta stellare forse la nave Ammiraglia anche se ce ne sono altre di classe Galaxy e la missione principale è sempre nell'ambito del contesto di determinare il contesto del nostro audit la missione principale è di esplorazione di nuovi mondi e di nuove forme di vita e ovviamente ha anche una funzione diplomatica le principali parti interessate dal sistema di gestione della nostra organizzazione per l'ambito della sicurezza delle informazioni sono per l'appunto la flotta stellare che si aspetta ovviamente che tutte le informazioni trattate a bordo dell'Enterprise avvengano in maniera etica secondo i regolamenti di flotta abbiamo ovviamente l'equipaggio che si aspetta che i propri dati personali e tutto quello che riguarda le proprie attività sia trattato secondo gli migliori standard di sicurezza e ovviamente abbiamo le specie aliene che non capiamo bene quale sia la loro aspettativa visto che sono causa della gran parte delle minacce che incontrano all'interno del nostro audit ovviamente il contesto in cui opera l'enterprise prevede per comprenderlo anche situazioni per esempio di dover gestire AI generativa come vediamo in questo caso o stampanti 3D quindi sistemi per creare oggetti realtà aumentata o realtà virtuale o che dir si voglia e ovviamente social network abbiamo una politica della sicurezza delle informazioni che ovviamente è ben determinata da una leadership quindi abbiamo la clausola 5.2 dell'ISO 27001 che ci impone di determinare quella è la politica della sicurezza delle informazioni e la politica è che gli accessi devono essere ovviamente cioè le informazioni devono essere riservate quindi soltanto chi ha diritto di accesso dovrebbe avere accesso a quelle informazioni devono essere integre quindi ci deve essere una certa integrità come in tutte le organizzazioni quindi non ci deve essere un accesso non autorizzato alle informazioni al fine di modificarle ovviamente ci deve essere una disponibilità quindi ci deve essere un minimo di disaster recovery per fare in modo che le informazioni siano sempre disponibili e una conformità l'organizzazione della sicurezza delle informazioni a bordo dell'enterprise ci impone clausola 5 e 6 dell'ISO 27001 di identificare i ruoli di leadership e i ruoli chiaramente chiave abbiamo il capitano Picard che è quello che deve dare le direttive per una corretta e le risorse per una corretta implementazione del sistema di gestione abbiamo il comandante Data che è il responsabile dell'attuazione della politica espressa dall'alta direzione come dice l'ISO 27001 abbiamo il tenente comandante Laforge che ovviamente insieme al tenente comandante Data si occupa per l'appunto della parte tecnica quindi dell'implementazione dei sistemi tecnici e poi abbiamo Wharf che non si sa bene che lavoro faccia come abbiamo visto qui probabilmente il sistema di gestione risulta ben strutturato ma magari non c'è stata la diffusione che richiede il punto norma in termini di responsabilità all'interno dell'organizzazione non so se vi ricordate ma qualche tempo fa c'era un account su Twitter adesso X ma all'epoca Twitter molto interessante che si chiama Wharf Email dove ogni giorno dava un'email di Wharf era molto carino e qui quello che possiamo vedere c'è Wharf che dice ma Data ha appena impersonato il capitano Picard ha preso il controllo della nave ma chi è che è in charge dell'information security sono io e lo mando ovviamente a Jordi quindi diciamo che c'è un po' di confusione in termini di chi dovrebbe essere responsabile di questa parte la parte seconda del nostro audit chiaramente esula da quello che è il controllo formale dell'organizzazione e entra nel contesto del buon auditor di andare a prendere casualmente casualmente degli episodi e andare a valutare lo stato di implementazione del nostro sistema di gestione partiamo come ogni buon auditor abbiamo preso sei aspetti casuali e andiamo a fare l'auditing cercando di seguire l'equipaggio dell'enterprise all'interno di varie situazioni quindi andiamo a prendere un aspetto questi sono presi dall'annex A dall'iso 27001 che è il controllo degli accessi che è un requisito 5.15 e il requisito questo lo leggiamo testualmente questo è il punto norma che dice le regole per controllare l'accesso fisico e logico alle informazioni e altre risorse associate devono essere stabilite e implementate in base ai requisiti di sicurezza aziendale e alle informazioni andiamo a vedere questo episodio questo episodio di neutral zone la zona neutrale è un episodio in cui l'enterprise si trova a dover indagare su alcuni diciamo guasti che si sono verificati su una rete di sensori vicino alla zona neutrale e durante questa investigazione beccano un vascello del ventesimo secolo alla deriva Worf e Data vanno a bordo di questo vascello e trovano determinano che questo vascello viene dal ventesimo secolo cioè risale al ventesimo secolo quindi diciamo ai giorni nostri e all'interno di questo vascello trovano che l'equipaggio è congelato quindi dal punto di vista con tecniche criogeniche sono quasi tutti morti tranne tre persone li scongelano li portano a bordo dell'enterprise li confinano in varie diciamo alloggi che sono di solito anche molto confortevoli e mortali e aspettano al che questi qui si spazientiscono un pochino perché vogliono avere notizie dove andiamo cosa facciamo perché siamo qui e chiaramente uno comincia a giocare con un'interfaccia di comunicazione che si trova all'interno del sistema e in qualche modo riesce ad aggirare una serie di protocolli e a introdursi all'interno dell'intercom della plancia dell'enterprise e a parlare direttamente sopra a tutte le operazioni che stanno funzionando al che il capitano Picard lo prende per un orecchio lo porta nella radio room e gli dice ma assolutamente tu non ti devi permettere di fare sta cosa perché hai violato i sistemi di sicurezza dell'enterprise e lui uomo del ventesimo secolo che avrà visto le stesse conferenze che abbiamo visto noi ha detto ma scusa ma perché non ci sono sistemi di sicurezza che me l'hanno impedito cioè io semplicemente mi sono messo lì ho giocato un pochino ho trovato il pulsante giusto e lì chiaramente dobbiamo fare un passettino indietro e dire che diciamo la nave ha un sistema di autenticazione terribile cioè nel senso che non c'è un sistema di autenticazione e non c'è neanche il doppio fattore tanto è vero che basta semplicemente parlare alla nave e in qualche modo qualcuno ti dà accesso Picard gli spiega per l'appunto che noi uomini del venticattoresimo secolo siamo oltre a queste cose relative alla gestione degli accessi perché in realtà tutto si basa sulla fiducia non abbiamo password non abbiamo credenziali perché sappiamo che tutte le parti coinvolte lavorano per il bene comune dell'organizzazione quindi non abbiamo bisogno di fare autenticazioni o password poi spoiler sappiamo poi negli episodi successivi che questa cosa non è vera però diciamo che questo è quanto riportato ora se dobbiamo andare a vedere cosa è andato storto in termini di audit io da auditor dico intanto non c'è una gestione degli accessi quindi nel momento in cui il nostro amico del ventesimo secolo riesce ad accedere a una console chiaramente il punto norma vuole che una gestione degli accessi ci sia una password un qualcosa che determini quali sono i permessi che una persona ha nel momento in cui ha accesso al sistema informativo della nave seconda cosa la formazione consapevolezza che è un altro dei punti dell'ISO 27001 nessuno ha detto a questi poveri cristi non devi toccare niente quindi nel momento in cui tu porti qualcuno a bordo devi creare un'informativa o comunque cercare di fare in modo che le parti coinvolte sappiano quali sono gli ambiti in cui questi si muovono altro punto che andiamo a prendere in esame è il 521 sicurezza delle informazioni nel supply chain ICT quindi andiamo a leggere il punto norma devono essere definiti e implementati processi e procedure per gestire i rischi per la sicurezza delle informazioni associate alla catena di fornitura e servizi ICT episodio 11001001 questo episodio diciamo tratta di una situazione nel quale abbiamo l'enterprise che era attraccata a una stazione per delle riparazioni e degli aggiornamenti per l'appunto ai sistemi tutto quanto l'equipaggio meno chiaramente che nell'alta direzione sbarca sulla stazione per cercare di prendersi un po' di giorni di permesso perché ovviamente vogliono anche loro riposarsi è una buona occasione entrano a bordo i nostri supplier che sono chiaramente questi personaggi che vedete sullo schermo che si chiamano binari o binars che hanno la particolarità intanto di lavorare sempre in coppia e di parlare solo in codice binario e devo dire che sono dei fornitori che se ti devono mettere le mani sui sistemi informativi già si chiamano binari è un ottimo marketing da quel punto di vista fanno un aggiornamento ma prima di fare questo aggiornamento inseriscono chiaramente una nuova programmazione del ponte ologrammi siccome a bordo era rimasto il capitano Picard e il primo ufficiale Riker mettono una programmazione sul ponte ologrammi che prevede un programma jazz con una signorina che gestisce questo programma jazz che attira molto l'interesse del comandante Riker quindi il comandante Riker viene in qualche modo assorbito da questa nuova attività nel ponte ologrammi e nel frattempo i binari sono disponibili ad andare avanti nell'aggiornamento finché stanno facendo questo aggiornamento a un certo punto Picard vede qualcosa che non lo convince e capisce che in realtà il vero motivo per il quale i binari si sono proposti come fornitori dell'aggiornamento dei sistemi della nave e che stanno rubando la nave essenzialmente perché la vogliono guidare guarda caso per l'appunto la vogliono guidare sul loro sistema sul loro pianeta natale perché si trovano che i loro sistemi informativi stanno collassando e vogliono utilizzare vogliono prendere in prestito il computer dell'enterprise per cercare in qualche modo di aggiustare le loro problematiche ora Picard riesce chiaramente a risolvere la situazione ma essenzialmente rimane passivo perché chiaramente non può fare altro che aspettare la nave torna in porto e i fornitori ringraziano perché gli è stata prestata la nave ora da un punto di vista di auditing non è un bel episodio quello che è successo io come auditor che guardo intanto c'è un problema di gestione dei fornitori tanto come minimo vai a fare un background check sui fornitori anche punto norma cioè vai a controllare che effettivamente i fornitori abbiano una certa reputazione adesso non so questi binari che tipo di rapporti avessero con la federazione perché erano lì se avevano già avuto uno storico cioè tipo quanto era il loro fatturato rispetto al totale sugli aggiornamenti dei sistemi o anche di quanto si occupassero di questioni di questo tipo però sicuramente i rapporti con i fornitori specialmente quelli critici che toccano i sistemi critici devono essere gestiti meglio valutazione del rischio prima di far salire qualcuno e toccare i sistemi dell'enterprise mi aspetterei come minimo che ci fosse una valutazione dei rischi che prenda in considerazione l'aspetto che qualcuno potrebbe rubare la nave nel caso in cui avesse chiaramente cattive intenzioni e in quel caso vado magari a farli seguire o accompagnare da qualcuno un minimo di e poi ovviamente formazione e consapevolezza cioè nessuno a bordo dell'enterprise aveva neanche mai lontanamente pensato che quando c'è un fornitore che mette le mani sui sistemi magari lo faccio accompagnare da data o dalla forge qualcuno insomma che segue le attività andiamo a prendere un altro punto norma gestione dei backup 813 le copie dei backup delle informazioni del software e dei sistemi devono essere mantenute testate regolarmente in conformità con la politica specifica concordata in materia di backup episodio a fistful of datas per un pugno di data allora l'enterprise come guarda caso sta facendo delle riparazioni comunque sta facendo insomma delle attività di manutenzione a un certo punto il tenente comandante la forge dice sai cosa non abbiamo un piano di backup quindi facciamo un bel piano di backup e mi sembra una buona idea andare a collegare la testa di data o comunque il corpo dell'androide ai sistemi della nave ti colleghiamo e usiamo la tua testa la tua rete positronica come backup dei sistemi della nave mi sembra un'ottima idea lo collegano nel frattempo chiaramente metà dell'equipaggio è smontato perché non abbiamo imparato niente dalla volta precedente quindi c'è anche un problema poi di come si dice di miglioramento continuo che non viene applicato ma comunque non avendo imparato niente dalla volta precedente metà delle persone sono via l'altra metà ovviamente dov'è nel ponte ologrammi quindi siccome l'altra metà è nel ponte ologrammi e sta facendo un western praticamente non c'è nessuno che supervisioni questo processo fanno questa attività e nel frattempo qualcosa guarda caso va storto e una serie di pezzi di software incompatibili con la nave prendono il controllo di alcune routine dei sottosistemi e guarda caso cosa vanno ad attaccare il ponte ologrammi vengono disabilitati i protocolli di sicurezza che per chi non ha visto Star Trek praticamente lo 0,1% dei presenti sono quelli che fanno in modo che non vieni ammazzato se ti sparano in un western vengono disabilitati i protocolli di sicurezza e tutti i personaggi all'interno del programma hanno la faccia di data una serie di peripezioni una serie di cose dopo alla fine trovano il sistema di fare un reboot della nave dei sistemi della nave riescono in qualche modo a ripristinare e salvano capra e cavoli allora intanto come al solito questo è un problema di valutazione del rischio collegare un sistema esterno alla nave in questo caso un removable media ai sistemi della nave o ai server della nave chiaramente dovrebbe essere accompagnata da una valutazione del rischio per cercare di capire se una roba del genere possa avere un qualche genere di impatto sui sistemi critici la seconda cosa è l'isolamento dei backup cioè appunto anche punto norma tra l'altro non è che stiamo dicendo una cosa strana che dice che per l'appunto questa la leggo in un ambiente conforme all'ISO 27001 i backup devono essere isolati dal sistema operativo principale per proteggersi da malfunzionamenti o attacchi nel nostro caso come si dice I don't always test my code but when I do I test it in production quindi l'hanno testato direttamente in produzione ci hanno preso hanno detto sai cosa facciamo una politica di backup proviamolo qui i dati veri vediamo cosa mai potrà andare storto non abbiamo fatto la valutazione del rischio quindi non lo sappiamo e quindi l'hanno fatto e poi ovviamente test ripristino quando vado a fare il test per vedere se la mia politica di backup funziona mi aspetterei di testarlo non sui dati veri quindi faccio il test del backup test ripristino in un ambiente separato sandboxing e poi chiaramente lo riporto nel sistema di produzione quindi anche qui diciamo che l'audit non ha dato diciamo che è una non conformità anche questa maggiore andiamo a prendere un altro punto 812 prevenzione dei data leak in questo caso le misure di prevenzione delle fughe di dati devono essere applicate ai sistemi alle reti a qualsiasi altro dispositivo che elabora memorizza o trasmette informazioni sensibili in questo episodio The Most Toys abbiamo una situazione dove attraverso una chain of attack quindi una catena di attacchi molto sofisticata un collezionista di nome Kivas Fajo che è un collezionista di cimeli ha messo gli occhi su data e dice data è una di quelle cose che mi piacerebbe avere nella mia collezione di cimeli perché è una delle cose rare che trovo nell'universo quindi fa un diciamo un piano molto complicato per cercare di rubarlo siamo d'accordo che è molto complicato ma questo ve lo leggo perché è gustosissimo quindi cosa fa lui trova identifica dell'acqua su un pianeta che si chiamava beta ogni secondo e la contamina con una sostanza che si chiama tricianato ora questo tricianato per essere trattato per essere reso potabile di nuovo deve essere trattato con una sostanza che si chiama itritio che non ho idea di che cosa sia ma va bene guarda caso l'itritio è altamente esplosivo solo sullo teletrasporti quindi lo devi muovere con una navetta e guarda caso cosa succede questo faggio avvelena l'acqua guarda caso è l'unico mercante della zona che vende itritio con la sua nave quindi l'ha fatto lui e poi ovviamente dice va vicino all'enterprise gli dice ascolta se lo volete comprare io ce l'ho mandatemi una navetta a raccoglierlo quando la navetta arriva ovviamente mandano per qualche motivo data non si sa perché è un asset critico lo mandiamo dentro la navetta questo smonta viene rapito ok serie di peripezie sono in grado comunque di ah no viene rapito inscenando nella morte ovviamente lui fa finta che il diciamo vada qualcosa storto nel trasferimento lo shuttle esplode quindi dicono data è morto non cercatelo più l'enterprise ha dei sensori avanzati quindi in qualche modo riescono a capire che data non è morto lo recuperano dal punto di vista diciamo mio da auditor dico c'è un problema di trasmissione sicura di data in questo caso funziona meglio in inglese però diciamo che è comunque applicabile come? data transferring esattamente come diciamo quindi data era trasportato su una navetta quindi da un punto di vista se io avessi avuto un sistema di DLP quindi di data loss prevention o data leak prevention chiaramente non vado a trasferire un asset critico su un mezzo non sicuro quando vado a trasportare un server da un data center all'altro di sicuro lo faccio in bicicletta insomma questa è un po' la questione poi abbiamo un problema ancora di valutazione del rischio andare a dire sai devo fare questo trasferimento su una navetta che non è proprio il massimo della vita ci metto dentro data che è un asset critico che magari ha anche informazioni critiche forse addirittura i backup della nave perché ci siamo ricordati che avevano una certa passione per collegarlo ai sistemi della nave quindi chissà che cosa è rimasto dentro e ovviamente abbiamo il problema dell'accesso non autorizzato questo fagio o questo fagio ha avuto modo chiaramente di accedere a data in maniera non autorizzata perché per una mancanza di valutazione del rischio adeguato protezione da malware 807 la protezione contro le minacce informatiche deve essere implementata e supportata da una prepiata consapevolezza da parte degli utenti episodio contagion allora qui questo è un episodio molto particolare perché praticamente l'enterprise riceve una richiesta di soccorso dalla Yamato che è un'altra nave di classe Galaxy ci vanno vicino dicono non sappiamo che cosa sta succedendo abbiamo tutti i sistemi in avaria c'è qualcosa che non va mentre stanno parlando la nave salta per aria muoiono tutti si salva solo la scatola nera come di solito allora all'interno dell'enterprise hanno questa bellissima idea di dire ma ci hanno detto che qualcosa non stava funzionando hanno parlato che poteva essere un potenziale virus scarichiamo i log della scatola nera trasferiscono i log della scatola nera a bordo del computer enterprise cercano di analizzarlo poco dopo chiaramente questo malware si propaga ai sistemi dell'enterprise al che hanno questa brillante idea di collegare data alla nave di nuovo e guarda caso il malware si propaga anche su data che diventa inservibile poco dopo cosa succede che passa di là una nave romulana che dice avete bisogno di assistenza guarda abbiamo preso un virus c'è qualcosa che non va mi dai la coppia di log magari riesco ad aiutarti gli girano la coppia di log e si infettano anche loro ok allora c'è un problema di endpoint protection ma come minimo vai a trasferire dei dati da una fonte potenzialmente compromessa l'antivirus non dico le dr o cosa ma un antivirus cioè faccio una scansione cercare di vedere valutazione del rischio di nuovo prego prego interrompa non sappiamo sappiamo però che era stato fatto da una civiltà avanzata che la Yamato stava in qualche modo investigando perché il capitano della Yamato aveva una passione per queste civiltà antiche ultra avanzate che avevano questa tecnologia del futuro stava analizzando una serie di reperti e ha preso questo virus quindi potrebbe essere un virus della Madonna quello sì non lo escludiamo se avessero fatto la valutazione del rischio giustamente ci sarebbe stato ah non vai a investigare antiche civiltà aliene che potrebbe aver costruito dei virus in grado di passare da un sistema all'altro e soprattutto non vai magari a portare questo artefatto a bordo e lo colleghi ai sistemi seconda cosa formazione nessuno a bordo dell'enterprise sapeva cosa fare esattamente nel momento in cui ho dei log o comunque degli artefatti di dati che sono potenzialmente dannosi per i miei sistemi e quindi una formazione alle persone di dire ascolta prima di trasferire dei dati crei un sandbox un ambiente isolato oppure dopo la prima volta che hai infettato qualcosa non passarlo a qualcun altro se sta avvenendo da lì il problema questa è una di quelle cose che non è stata data adeguata formazione e chiaramente c'è il problema del continuate a collegare data alla nave basta non collegatelo più alla nave abbiamo capito che non è una buona idea business continuity e disaster recovery 530 la prontenza dell'ICT deve essere pianificata implementata mantenuta e testata sulla base degli obiettivi di continuità operativa e dei requisiti di continuità dell'ICT episodio disaster in questo episodio l'enterprise sta andando tranquillamente diciamo per lo spazio a un certo punto incontra delle stringhe quantiche qualsiasi cosa siano che deteggiano tutti quanti i sistemi vitali della nave esplosioni dappertutto tutto si isola si isolano le comunicazioni non riescono più a parlare tra di loro il computer è fuori uso praticamente si cancella tutto all'interno del computer insomma si trovano con un problema grave ai sistemi della nave la nave è completamente frammentata ci troviamo addirittura con i centri di comando che non riescono a parlare tra di loro e da lì chiaramente qua ve lo devo dire faccio un outing subito questo è l'unico episodio che ho analizzato in cui hanno fatto tutto giusto ed è andato tutto bene nel senso che hanno gestito l'incidente bene la prima cosa che è stata fatta è che siccome le comunicazioni non funzionavano tutti sapevano che cosa dovevano fare in planche era rimasta solo di Anna Troi che credo che sia ultima nella catena di comando ma ha preso il comando della nave per quali sistemi erano ancora connessi alla plancia ha cominciato a prendere il comando e ha cominciato a gestirlo subito si sono mossi chi era rimasto in ingegneria per recupero delle funzioni di sistema che hanno avuto l'idea di collegare la testa di data alla nave questa è l'unica volta in cui è andata bene quindi almeno una volta è andata con cosa? con i backup che mi hanno fatto l'altra volta quindi hanno ripristinato i backup per cercare di ripristinare il sistema e comunicazione di emergenza avevano dei sistemi alternativi per riuscire a comunicare tra di loro e quindi significa che tutta la formazione e tutto quanto il piano di DR che avevano messo in piedi ha funzionato alla perfezione bene io chiaramente come risorse vi do il link della presentazione che aveva fatto Josh Bresser che è simile a questa ma sotto aspetti mitre e quindi diciamo sotto certi aspetti più sulla parte cyber security vi do il link all'ISO 27001 e come ringraziamenti mi sento di ringraziare la mamma e il papà che hanno speso una follia quando avevo 12-13 anni per comprare tutte le VHS di Star Trek perché all'epoca chiaramente non erano né scaricabili né visionabili attraverso comedy subscription e anche perché io ovviamente da buon bambino degli anni 80 esigevo solo cassette originali Walt Disney on video quindi non volevo i doppioni che arrivavano dalla videoteca visto che è rimasto un pochino di tempo ho una slide bonus e abbiamo responsabilità dopo la cessazione del rapporto di lavoro fa parte del controllo risorse umane 605 nell'episodio The Best of Both Worlds Picard viene il senior management dell'enterprise quindi Picard viene convinto per andare a lavorare per un'organizzazione avversaria un social network quello che avevamo visto all'inizio nel contesto e chiaramente va a lavorare da un'altra parte e il suo trasferimento in questa nuova organizzazione chiaramente dà tutta una serie di informazioni che facevano parte della vecchia società e per qualche motivo poi si stanca torna indietro lo rimettono al lavoro esattamente nell'episodio successivo nel part 2 dove torna esattamente operativo come se niente fosse qui c'è un problema della politica per la gestione dell'executive departures e chiaramente un problema di revoca degli accessi ah no beh non hanno le password quindi quel problema forse non è un requisito aziendale grazie e se ci sono domande prego bello grazie sembra un collaboro durante il press da come l'hai descritta ma ma per accedere ai sistemi critici tipo ad esempio l'autodistruzione serve l'autentificazione di tre ufficiali con tanto di chiave autorizzazione piccar 4.7 alfatango chi è che non la sa troppo corta caspita troppo corta qui c'è un problema di complessità del pin grazie però doverosa precisazione qualcos'altro qualcun altro grazie a tutti grazie mille a Daniel per questo super talk un grande applauso